Fri e fai a tutti, io sono Arti di Pura Febbre Italiana e in questo video parleremo del miglior soldato di Salva il Mondo e vedremo anche appunto un gameplay dove lo utilizzeremo. In questo video salutiamo GL Hashtag LOL Gli hashtag LOL Eh ma Farris non ti doveva superare con gli iscritti? Quello scemo. Dai EPFI che sei sempre più vicino a 200.000 iscritti, dai che ce la fai. Grazie mille, non ripeto il tuo nome perché è stranissimo, non mi interessa di Farris, io ho semplicemente detto la verità e ciò che io pensavo. Eh riguardante quella faccenda lì. I prossimi saluti sono per Acqua Uliveto. Io preferivo il vecchio Fortnite, ora non è più così divertente, poi la musichetta di sottofondo nella lobby era molto più bella. Intendo quella che metti anche tu, ti prego salutami se è il mio YouTube preferito e ti seguo da 6.000 iscritti quando portavi Clash Royale. Allora anch'io preferivo tantissimo il Fortnite vecchio, per un sacco di ragioni su cui magari farò un video apposta. E postazione bellissima, pura fibra italiana, grandissima, bravissimi, fate anche il video sulla postazione di Zucci, scrivo di Riccardo Nisi. E certo, faremo anche il video nella postazione di Zucci appena torna dalle vacanze, perché lui è in vacanza. Vi ricordo che se questo video arriva a 2.000 like, saluterò altri di voi nel prossimo video. Quindi forza! Ma ora andiamo al video. Prima di iniziare vi voglio dire che questo è solo un eroe ed è, secondo me, l'eroe migliore in assoluto, il soldato migliore in assoluto. Tuttavia farò comunque un video che parla dei migliori soldati in generale, quindi non solo uno solo, ma ne coprirò un po' di più. Ma detto questo, andiamo subito a vedere. Lo vedete già qua, è Danter Assalto Urbano. Il miglior soldato in assoluto, secondo me. E a dire il vero, secondo molti, c'è da specificare che la Epic Games ha ben bilanciato gran parte degli eroi, nel senso che non ce n'è uno che prevale su tutti gli altri. Magari ce n'è uno che ha delle abilità migliori o che uno con dei bonus buoni risulta essere superiore a degli altri. Comunque, qua vediamo è Danter Urbano. Scusate, mi tosterò perché muoio di caldo. Perché è la migliore? Lo vediamo subito. Andiamo a leggere le sue abilità e perché la rendono la migliore. Allora, partiamo dal danno incrementato alle armi del 10%, l'assoluto del 10%, ma questa è una caratteristica di tutti i soldati. Poi ha lo sbaraglio, che è la mitragliatrice, diciamo che tiri fuori per 10 secondi e fai parecchi, parecchi danni. Dopodiché i colpi debilitanti. In pratica, i colpi debilitanti vuol dire che i danni a distanza infliggono un livello di vulnerabilità incrementando del 5% tutti i danni subiti dal bersaglio per 15 secondi. L'effetto si somma fino a tre volte. In pratica, noi spariamo un tipo a uno zombie e quello zombie prenderà il 5% del danno in più per 15 secondi. Chiaramente questo effetto è staccabile fino a tre volte, quindi può prendere fino a 15% di danno in più da un solo proiettile. Quindi, oltre al 10% di danno in più dato da lei, abbiamo sto 15% di danno in più, quindi in pratica 25% di danno in più. L'effetto vulnerabilità imposto dai colpi può sommarsi fino a 5 volte, quindi 2 volte in più. altri 10% di danno in più. In totale sono 35% di danno in più che questo soldato fa. Riduccio del 29% rinculo. Questa è importantissima perché avere la mira stabile ci permette di fare un sacco di headshot che è molto importante con questo eroe. Dopo vedremo perché. E quindi il rinculo del 29% è tantissimo. Onda d'urto. Questa onda d'urto ci permette di tirare un pugno per terra che tipo crea un onda d'urto appunto che spazza via gli zombie nelle rapide vicinanze. inoltre se cadiamo dall'alto utilizzando questa prima di cadere non prendiamo danni. Dopodiché caricatore rapido incrementa del 30% la velocità di ricarica quindi anche a ricaricare lei è velocissima. Oltre al poco rinculo, oltre alla velocità di ricarica c'è veramente... lei è un soldato potentissimo. Pioggia di fuoco. I colpi alla testa dei nemici incrementano di 50% la cadenza di tiro delle armi a distanza per 5 secondi. Cosa significa questo? Che se colpiamo un nemico con un'arma a distanza per 5 secondi l'arma sparerà quasi il doppio più veloce. Diciamo che sparerà molto più veloce i colpi rispetto al solito. Poi monsoni incrementa del 25% la cadenza di tiro di pioggia di fuoco. Insomma oltre al 50% adesso avremo il 75%. Spara quasi il doppio più veloce ancora. Poi le granate frammentazione che sono una caratteristica di tantissimi soldati le troviamo anche lei lancia delle granate che fanno parecchio danno e lascia una zona energetica dove se gli zombie passano continuano a prendere danno il che è potentissima come cosa perché veramente lanciate una granata e fate ancora danni nel tempo dopo che l'avete lanciata. Gambizzatore incrementa l'efficacia di colpi debilitanti la vulnerabilità sale al 9%. Come abbiamo detto prima i colpi debilitanti diciamo per 15 secondi si incrementano i danni di 5% però è staccabile fino a 5 volte quindi è come se li incrementassimo del 25% però essendo che il danno dei colpi debilitanti è 9% in più adesso faremo 45% di danni in più più il 10% sono 59% di danni in più e per finire alla larga rilascia un campo energetico che invece il 15% dei danni all'esplosione iniziale da granata al secondo per 10 secondi quindi quella roba di cui vi parlavo prima veramente non so se sono stato chiaro diciamo che è più facile a vederlo che a farlo chiaramente un eroe per essere al massimo delle sue potenzialità deve avere anche degli ottimi eroi di supporto in questo caso io ho Berserker Rinnegato che permette di avere il 18% di danni in più delle armi d'assalto lo posso ancora potenziare quando lo potenzierò a incrementare i danni delle armi d'assalto al 24% quindi come detto prima già questo eroe fa praticamente 60% di danno in più con questo abbiamo 80% di danno in più con i fucili d'assalto ehi tu se il video ti sta piacendo considera l'idea di iscriverti a questo canale ma ricorda di attivare anche la campanella così da non perderti altri video come questo qui è semplicissimo e a te non costa proprio niente scusami se ti ho disturbato e adesso ti lascio al video ciao ciao e come diciamo bonus squadra terziario abbiamo Evelyn doppio giochista che ha le bombe a grappolo quando lanciamo una granata quella oltre a esplodere a fare il campo elettromagnetico che dannigia i nemici rilascia altre 6 piccole granate che fanno altri danni che fanno altri piccoli campi magnetici insomma da una granata che fa anche un campo energetico ne abbiamo altre 6 che fanno comunque danni si può ancora potenziare magari la ricarica se per esempio non avete lui perché è di un evento magari trovate comunque un altro soldato che ha come potenza bonus il caricatore rapido come vediamo lei siccome lei ha già 30% di ricarica in più con questo sarebbero 60% in più in pratica ci mette un nanosecondo a ricaricare le armi il che ci sta però io preferisco il danno in più e quindi lui è quello perfetto che armi utilizziamo beh lo vedrete tra un po' allora andiamo io utilizzo il nocturno dopo ve lo mostrerò meglio allora anzi ve lo mostrerò già adesso il nocturno 50% velocità di ricarica in più 33% di danni colpo alla testa in più 25% di danni in più elemento energia 10% di danni in più 33% danni di colpo alla testa in più più tormento tormento è una cosa che fa danni over time non so come dire in italiano nel tempo vedete un solo colpo in testa fa 8000 anche 10.000 di danno vi ricordo che un colpo in testa incrementa la velocità dei colpi di un bel po' quindi in pratica sparare in testa ci permette di fare più colpi nel tempo abbiamo già salvato 5 superstiti su 6 quindi comunque la missione bene o male già l'hanno completata loro io comunque vado a prendermi le torte questo eroe mi piace mi piace un sacco sia dal punto di vista estetico perché è veramente bello comunque non preoccupatevi io nei prossimi video nei prossimi lunedì comunque vi mostrerò anche gli altri eroi diciamo delle altre classi quindi il miglior costruttore il miglior diciamo il miglior straniero vorrei solo trovare zombie in modo da farvi vedere quanto potente è veramente ragazzi guardate 10.000 di danno e 7.000 di danno non in edge shot vi ricordo che siamo in una io sono livello 60 e siamo qua in una mappa livello 70 ora lo vedremo su questi qua allora ora vi farò vedere meglio anche il discorso delle granate ma prima utilizziamo i robottini e il potere speciale allora da prima cosa abbiamo la Gatling che comunque fa danno sia le strutture che i robot ne fa abbastanza chiaramente ne fa circa 2.000 se andiamo in edge shot non ne fa tanti come il nocturno non dite eh sì ma sei forte solo perché è il nocturno se avessi un'altra arma fucile d'assalto ve lo farei vedere però chiaramente avendo il nocturno mi potenzo solo quest'arma qua e chiaramente la utilizzo la sto potenziando più al massimo possibile in ogni caso ora vi faccio vedere il discorso delle granate vedete esplode crea il campo elettromagnetico e ci sono altre 6 esplosioni guardate bene vedete altre 6 eh va bene non si capisce niente perché ci sono tutte le esplosioni degli zombie vari perfetto super stessa salvato ma ve lo faccio vedere lo stesso allora guardate la granata la lancio esplode crea il campo e fa altre 6 esplosioni magari non riuscite a contarne 6 questo campo dura per circa non mi ricordo 10 secondi comunque dura abbastanza nel senso che i nemici continuano a prendersi danni 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 fidatevi che fate tanti di quei danni con questo eroe che metà basta infatti non ci si mette tanto a fare parecchi parecchi danni ah ma dove volete passare dove volete passare pam buonissimo ma che cavolo fai è importante cercare di mirare in testa tanto la velocità ce l'abbiamo il rinculo ce l'abbiamo ridotto quindi in ogni caso mirare in testa non è difficile ma ciao ma ciao ma ciao sciolti come niente come ottenere questo soldato in realtà è molto semplice una volta non era non era possibile fare questa cosa allora due opzioni o lo prendete nei mini lama cioè nei lama plus questi qua dovete avere molta molta fortuna oppure semplicemente una volta che avete comprato un po' di queste i flussi leggendari io li compro ogni settimana tutti questo non l'ho comprato perché? perché è la stessa cosa se a voi non piace quella skin là potete comprarlo direttamente lui è la stessa identica cosa è semplicemente una skin diversa però è lo stesso identico eroe mazza salto urbano come vedete alla larga gambizzatore granate monsone pioggia di fuoga le stesse identiche cose lo trovate in lui quindi è lo stesso identico soldato potete comprarlo dallo shop oppure comprando queste qua i flussi leggendari dopodiché andando su registro raccolta eroi soldati assalto urbano e qua recluta eroe e potete craftarlo con i manuali di addestramento e coi flussi leggendari insomma questo è tutto per il nostro headhunter assalto urbano il soldato migliore in assoluto il commento ignorante di questo video è io sono un soldato e poi bisogna completare con qualcosa che faccia rima a voi la sfida anche oggi ringraziamo la pura fibra dell'anestron qua grazie mille per essere iscritti noi siamo già in 163.000 e cresciamo sempre di più commentate con quello che ne pensate voi di questo soldato voi ne usate un altro e perché? lasciate un piaccio se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici che giocano a salva il mondo e vorrebbero prendersi un soldato molto forte e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao